Ciao, sono Criscila Bey, sono una cantante e una cantautrice, ho appena inciso il mio primo EP che contiene 5 brani e si intitola Una storia vera. È un progetto molto nuovo, di canzoni molto recenti che abbiamo registrato in Location Recording e quindi molto improvvisato, molto fresco, insomma registrato in un'unica sessione. Per me fare musica è quello che ho sempre fatto e che continuo a fare, che mi permette di esprimere i miei pensieri come chi parte, può utilizzare altri canali espressivi, io ho la musica ma non solo e in più insegno ai piccolini proprio d'artica musicale, quindi diciamo che tutta la mia giornata è bella musicale. Una canzone per me è un racconto, non solo di parole, ma anche di atmosferi musicali, di musica e poi ogni attesa sa come, insomma, punta più sull'aspetto musicale piuttosto che sul testo quindi ogni canzone a sé sa cosa vuole dire e dove vuole arrivare. Comunque è un po' una confessione per una canzone. Spaghetti per me è una grande novità perché ne ho sempre sentito parlare ma per me oggi è la prima sera che sono qui e sono piacevolmente colpita anche se abbiamo iniziato da poco e quindi è tutto ancora da scoprire. Però penso sia un'iniziativa comunque che permetta a noi cantautori di condividere di uscire un po' fuori e conoscerci, mia vicenda anche. Questa sera ho bevuto e non ho finito come al solito uno spritz e quindi ancora lì là il bibitone gelato che non so se mai finirò e quindi queste sono le mie serate alcoliche, insomma, niente di trasgressivo.